Ciao ragazzi, e allora come è andato questo matrimonio? Benissimo, siamo al top Meno male, meno male Quella è la foto della serata La vedo, la piccola La piccola Allora, come è andato? Vi siete divertiti? È stato un bel matrimonio? Bellissimo Contenti della vostra... Io non consiglio Cristian Il Cristian è finissimo Io non consiglio Cristian Contenti o no della vostra scelta musicale? Troppo! No Bello ragazzi, vi auguro tante belle cose, tanta felicità A darvi un bacio in diretta, dai Grazie Siete bellissimi Ciao, fatemi un saluto a volo a volo Alla grandissima, sempre e comunque Ciao piccoli